Allora, vi ho chiesto questo piccolo appuntamento stampa, innanzitutto per mostrarvi che alle mie spalle c'è in corso un cantiere ormai da parecchio tempo, perché grazie alla mia amministrazione la caserma Garibaldi sta subendo quella trasformazione che come negli accordi, nell'accordo di programma sottoscritto ben prima che io diventassi sindaco, era previsto che qui qualcosa si facesse. Però alla luce del dibattito che si sta svolgendo proprio in relazione alle possibili altre destinazioni e fermo quello che già i direttori dei lavori hanno anticipato qualche settimana fa rispetto agli interventi in corso che sono in uno stato molto avanzato, mi sono permesso di buttare giù alcuni numeri su quelle che potrebbero essere le conseguenze di un'eventuale retromarcia rispetto alla destinazione che tutti gli enti sottoscrittori all'unanimità hanno individuato ovvero un polo culturale e per poi arrivare al merito. E questo numero è un numero che esporrebbe il comune di Varese e anche ovviamente gli altri enti sottoscrittori ha un costo complessivo di danni, riserve, risoluzioni contrattuali che arriva a oltre 2 milioni e mezzo solo per le attività svolte fino a questo momento.